Buona vita in questa meravigliosa famiglia e sono sicura che sarà una bella vita lunga e piena di coccole come quella che spero vorrete regalare a queste due meravigliose micine che si trovano a Dossaia, in Toscana. Intanto conoscetele. Lei è Gilda, mentre lei è Gloria. Hanno da poco compiuto quattro settimane, sono state trovate accanto a un cassonetto abbandonato in una piccola scatola insieme al fratellino. Il fratellino purtroppo non ce l'ha fatta, loro avevano ancora il cordone ombelicale attaccato. Lo hanno perso da appena una settimana, hanno aperto gli occhietti, hanno dei bellissimi occhi azzurri, sono molto vivaci e giocherellone. I loro primi istanti di vita sono stati molto traumatici. Speriamo per loro una buona adozione, sia di coppia che singola. Contattateci e chiamateci per adottarli. Queste due micine hanno solo poche settimane, ma si capisce già che diventeranno delle gattone meravigliose, delle grandi compagne di giochi e vi faranno tanta tanta compagnia. Io vi consiglio di adottarle in coppia, perché se per lavoro o per altre esigenze legate alla vostra quotidianità voi siete obbligati a trascorrere tante ore fuori da casa, potete stare tranquilli che le due micette si faranno lo stesso compagnia, giocheranno insieme e aspetteranno il vostro ritorno. Quindi telefonate subito a Dosaia al 389 1572 256 ovviamente